Con i ragazzi che ci sono qui, qualcun altro che sicuramente riusciremo a portare, faremo un'interlagliatura importante. A questa interlagliatura non ti nascondo e vorrei inserire tutta una serie di giovani che già ci sono, che stiamo in qualche modo contattando perché secondo me il futuro dei giovani non può essere andare ancora a cercare soltanto i giocatori di esperienza.